Ciao ed è tutto pronto finalmente per la sfida di primavera riparti da te in sette giorni che inizierà lunedì 8 aprile io ti aspetto insieme a tutte le altre persone che parteciperanno del mio canale della mia newsletter in questa sfida dove ti inviterò attraverso video ed esercizi a fare chiarezza dentro di te lasciare andare quello che ti appesantisce e inizieremo insieme il cambiamento che desideri attraverso tre passi riceverai video ed esercizi via mail a partire dal lunedì 8 aprile e poi ci sarà una bellissima serata live dove tutti insieme metteremo insieme questi passi e ti spiegherò anche tutti gli strumenti che puoi utilizzare per iniziare la sua rinascita e il tuo cambiamento quindi io ti aspetto non vedo l'ora iscriviti qui sotto al video puoi trovare il link per iscriverti alla sfida ed è gratuita naturalmente o ti puoi scrivere anche sul mio sito il tuo anno zero puntocom